Ora parliamo di riposo e benessere psicofisico. Andiamo da Riccardo Ciccarelli. Ciao Riccardo. Gloria, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Il tema che vogliamo affrontare quest'oggi è legato al riposo, al sonno e a quanto possa incidere nel benessere psicofisico di ciascuno di noi delle persone. Per parlare di questo argomento noi siamo venuti qui a Bibbiena, siamo ospiti di Ales, Letti e Materassi e andiamo ad incontrare il titolare Alessandro Piantini per capire anche determinati aspetti che riguardano proprio anche la scelta di determinati dispositivi come in questo caso parleremo di materassi ortopedici. Intanto io ringrazio Alessandro per la ospitalità e per la disponibilità. Ho introdotto un po' il tema e vorrei capire che cosa si intende con materasso ortopedico. Allora, materasso ortopedico ora magari faccio ridere, però vuol dire tutto e non vuol dire niente. Nel senso che materasso ortopedico è una parola che si utilizzava alcuni anni fa per inquadrare un materasso tendenzialmente a molle, rigido. Ma perché? Perché comunque Vada non esistevano reti con le doghe ma fatte a maglia, quindi abbastanza morbide. Il materasso doveva essere rigido per compensare la troppa morbidezza del supporto che gli stava sotto. È chiaro che con l'avvento della rete a doghe è cambiata un po' la concezione di come costruire un materasso. Il materasso ortopedico, una definizione, è quella che si deve adattare minimamente e in maniera giusta ad ognuno di noi, all'utilizzatore. È per questo che il materasso ortopedico non potrà mai essere un tipo solo. Perché purtroppo siamo fatti tutti in modo diverso. C'è quello più alto, c'è quello più basso, c'è quello più in carne, diciamo così. Quindi chi soffre più caldo, chi ne soffre meno, quindi ci sono tanti materiali che se combinati possono dare tutti i risultati diversi. Proprio in base a che abbiamo davanti. Noi costruiamo materassi in base alle esigenze dei nostri clienti ovviamente. E questo è molto importante. Intanto Alessandro, approfittando della tua guida, noi ci spostiamo qui all'interno del negozio anche per andare a raggiungere proprio materialmente uno degli esempi di cui abbiamo parlato. Approfitto per domandarti, poi torneremo sul tema specifico, la vostra realtà ormai affonda le radici diciamo nel passato. Siete presenti soprattutto in Casentino, ma poi nel corso degli anni, anche con la vostra crescita, vi siete un po' diffusi anche geograficamente in altre zone. Allora guarda, noi nasciamo nel 76 come produzione e vendita a rivenditori in tutta Italia, tramite agenti eccetera. Dal 2018 abbiamo deciso di intraprendere la strada, di aprire tra virgolette le porte dell'azienda al pubblico qui della nostra vallata. Così è nato e nel 2020 abbiamo fatto il grande passo di investimenti fuori. Quindi siamo arrivati ad avere un sei negozi totali sul Fiorentino, sul Val d'Arno, nel Mugello. Quindi l'ultimo nato a febbraio quest'anno è all'isolotto, verso Scandicci. Quindi il nostro sogno sarebbe quello di crescere ancora insieme a chi ci dà fiducia ovviamente, perché senza loro non sarebbe stato possibile ovviamente. Il cuore però è rimasto da dove tutto è partito in Casentino e proprio a questo proposito, Alessandro, il nome della vallata ricorre anche, lo vediamo poi nelle immagini di Daniele Cionnini, in questo caso. E torniamo a parlare di materasso ortopedico. Sì, allora il materasso modello Casentino è il nostro biglietto da visita. Ovviamente non è un primo prezzo, ma non è neanche il materasso più banalmente più caro. È il materasso veramente nato bene, la classica ciambella è venuta col buco, perché fino all'anno scorso è un materasso che comunque abbina le varie tecnologie della traspirazione per quanto riguarda la molla indipendente e dell'accoglienza per quanto riguarda il memory. Quindi un materasso combinato con 5 cm di memory è altamente performante per un pubblico molto vasto. La grande innovazione che è venuta quest'anno, l'abbiamo presentata anche a Scandicci in Fiera e ha avuto un gran successo, mi sento di dire, è stata quella di non penalizzare il gusto personale, la sensazione personale che vuole l'utilizzatore. Perché? Perché 5 cm di memory occorrono per dare quella comodità giusta anche a chi non ha problemi, ma anche per chi ha problemi di schiena o di postura. È chiaro che ci sono persone che hanno questa esigenza, ma che vogliono ancora il materasso ortopedico, come si diceva prima, rigido. Dai di un materasso con poco memory è far loro un dispetto. Quindi noi siamo intervenuti sulla qualità di questo memory, sulla densità di questo memory, andando a mettere metà sulla lastra e metà sul topper integrato che ha già questo materasso, un memory ad altissima densità. Quindi, cosa viene fuori? Viene fuori un materasso performante, ma di sensazione rigida. Quindi, il materasso casentino, la ciambella venuta col buco, in due varianti. Quindi, per chi predilige un materasso più comodo e per chi lo vuole un po' più sostenuto. Sempre però un materasso ortopedico, quindi giusto e adatto per la schiena. E allora, noi ci avviamo verso la conclusione di questo nostro collegamento. In maniera telegrafica, la chiusura, Alessandro, la lascio a te per sottolineare un aspetto che tu hai introdotto in apertura e che poi ci ha accompagnato fondamentalmente durante tutto il collegamento. L'importanza anche di saper ascoltare e di saper accogliere l'esigenza di chi si rivolge a voi. Una persona una volta mi ha detto, ci hanno fatto con una bocca ed orecchio, quindi bisogna ascoltare il doppio di quanto si parli. Perdonateci se quando entrate nei nostri negozi vi facciamo alcune domande, ma sono tutte volte a trovare la soluzione più giusta per voi. Perché, come si diceva prima, la qualità è indiscutibile ed è quella con certe caratteristiche sotto le quali non andiamo. Però, per quanto riguarda il prodotto, vi faremo delle domande per capire le vere esigenze e consigliarvi al meglio per quanto ci è possibile. Grazie allora ad Alessandro Piantini per averci accolto, per averci anche guidato all'interno di questo mondo. Noi Gloria, qui da Bibbiena, ti restituiamo la linea. Te studio. E per aver ricordato quanto riposare bene davvero fa bene al nostro benessere psicofisico. Con questo concludiamo il nostro appuntamento oggi di Spunti e Spuntini. Torniamo domani, come sempre, a partire dalle 13. Una buona giornata a tutti, buon proseguimento qui su Teletruria. A domani.